Rewind, nuovo Miami Club. Sabato 29 novembre, party anni 70-80-90 con i DJ dei locali che hanno fatto la storia. Enrico Filippini, Corrado Cori, Andrea Maria, Gianluca Bingi, Voice, Andrea Pergolia. Special guest, Donatella Rettura. Sabato 29 novembre, Rewind, Miami Club, Monsanto. Info 349 50 79 940. Ingresso vietato ai minori di anni 30. Tutta la serata in diretta su RWE.